Il nostro Alanghe Nebbiolo, pur essendo base nebbiolo, è un vino da pronta beva, molto piacevole da bere, proprio perché il vigneto che utilizziamo per produrlo si chiama Campopiano, si trova proprio in una zona pianeggente della nostra collina, nella zona di Bussia, Monforte ed Alba. Questo vigneto di nebbiolo si estende per circa 2000 metri, si trova ad un'elevazione di 350 metri sul livello del mare e viene utilizzato per la produzione del nostro Alanghe Nebbiolo. Il nostro Alanghe Nebbiolo ovviamente è più pronto alla beva rispetto al nostro Barolo, ma comunque proviene da terreni in Bussia, quindi un nebbiolo strutturato ma con un'anima più fresca. Alanghe Nebbiolo